Preghiera del mattino Signore, in questo nuovo giorno accogli le preghiere e le offerte di coloro che incontrano grossi ostacoli a causa del Tuo nome. Essi annunciano, insegnano e pongono ogni sforzo in questa lotta per annunciare il Vangelo. In loro agisca la Tua potenza. Molti Gli respingono e vanno erranti, attratti da false dottrine, nella vanità dei loro ragionamenti e della loro misera ricerca. Concedi loro di incontrare Te, il Redentore, perché ottengano il dono di una comprensione piena, perché possano toccare Te, Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza. Amen. Grazie a tutti.